Come è arrivato il momento della verità? Chi ha ovviamente tanta esperienza ma ci siete anche voi più giovani pronti a dare il vostro contributo, chi come te avrà un ruolo fondamentale in questa Italia? Le tue sensazioni visto la partita così importante? Ma secondo me il nostro gruppo è integrato molto bene e noi giovani ci siamo messi a disposizione da fin da subito, i ragazzi più esperti sono stati gentilissimi e molto propositivi, ci hanno aiutato molto anche a integrarci. E quindi sì, ci sentiamo parte di questo gruppo e tutti noi giovani vogliamo dare una mano per raggiungere quello che è l'obiettivo della qualificazione. Poi insomma come va va, noi ce la mettiamo tutta e io in primis ovviamente ci proviamo. Poi quando avremo dato tutto avremo la coscienza a posto e vedremo che il risultato verrà fuori, sperando in positivo. Ci proviamo, speriamo ovviamente con l'ausilio di un grande pubblico a Conversano. Certo, infatti è bellissima l'atmosfera qua anche senza spettatori, quindi mi immagino col palazzetto pieno, come sarà?